Sono i nuovi arresti sulle tangenti per le grandi opere ad accendere il dibattito politico. Questa volta nel mirino c'è il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, travolto dalla bufera giudiziaria per il coinvolgimento del figlio. Nuovi arresti che preoccupano Palazzo Chigi, che prende le distanze dal ministro e chiede chiarezza perché l'impegno del governo contro la corruzione con il lavoro di Raffaele Cantone non venga offuscato. E mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceva al Quirinale il commissario anticorruzione per capire la gravità della situazione, sembra che il premier non abbia avuto contatti con il ministro delle infrastrutture. Sta a lui, spiegano fonti governative, chiarire la situazione e dimostrare di non avere nulla da nascondere. Palazzo Chigi poi precisa che Ercole in calza era un consulente esterno del ministero delle infrastrutture e non un dirigente governativo. Duro attacco della Lega che chiede le dimissioni di Alfano e che Lupi riferisca in Parlamento, una richiesta a cui fa eco la mozione di sfiducia al ministro Lupi dal Movimento 5 Stelle. Una delle strutture centrali del ministero è stata travolta da un caso di corruzione che può essere ribattezzato come Tangentopoli bis. Riguarda tutte le grandi opere d'Italia, se il ministro non si dimette di fronte a un fatto così grave, allora non capisco in Italia quando bisogna dimettersi. In attesa che la magistratura spieghi i confini dell'inchiesta, Renzi manda segnali politici chiari. Salta l'ipotesi avanzata da Cantone per un tagliando sulla legge Severino. La Severino non si tocca almeno fino alla sentenza della consulta, spiegano fonti di maggioranza, evitando anche di alimentare l'idea che una modifica sull'abuso d'ufficio potrebbe avvantaggiare il candidato PD alla Campania Vincenzo De Luca. Ma intanto arriva la stretta del governo sull'anticorruzione con la presentazione in Commissione Giustizia al Senato dell'emendamento sul falso in bilancio al DDL Orlando. Un'intesa che soddisfa i sostenitori di un inasprimento delle pene sul falso in bilancio e permette a Renzi di affermare, proprio oggi, che aumenteranno sia le pene sia i tempi della prescrizione. La lotta alla corruzione si fa in due modi. Con leggi nuove come il falso in bilancio, l'aumento dei tempi di prescrizione o quelle già provate, come l'autoriciclaggio o il 416 ter. Ma si fa anche con una riforma della pubblica amministrazione nella quale, dopo sei anni, un dirigente viene mandato ad alto ruolo, nella quale c'è semplificazione e non più discrezionalità. È quanto stanno facendo il governo e il Parlamento. Ma al tempo stesso un grande messaggio di etica e legalità va mandato al Paese. Un grande patto per il rispetto delle regole. È quello che stiamo facendo. Grazie a tutti.